Art Bonus e settimo centenario della morte di Dante nel 2021 sono stati al centro dell'incontro organizzato da ConfCommercio Ravenna alla Sala Bini. Durante il pomeriggio è stato spiegato il meccanismo delle erogazioni liberali a sostegno del patrimonio pubblico che ConfCommercio vorrebbe promuovere in favore di un bene ravennate da restaurare, coinvolgendo anche i propri aderenti. E si è parlato anche dell'importanza del 2021 per Ravenna, città che dovrà essere in grado di proporre un'offerta turistica più strutturata legata al sommo poeta. Arte e cultura al centro di questo pomeriggio nella Sala Bini di ConfCommercio, perché avete deciso di affrontare queste tematiche? Perché comunque la ConfCommercio è sempre vicina alla città, è una realtà della città, associa commercianti e imprenditori che lavorano in città e comunque noi dobbiamo in questo caso aiutare la città. Aiutare in che modo? L'art bonus capita a proposito, è un qualcosa che dà la possibilità di investire, di aiutare, di promuovere un restauro di un qualcosa che comunque ritrovi nel tuo territorio, nella tua città in questo caso. ConfCommercio si fa promotrice di questa realtà, vuole in questo modo dare un piccolo contributo, che diventerà grande perché comunque ci saranno, è auspico che ci siano altri interventi da parte dei nostri commercianti e questo anche per proprio dare uno sviluppo al turismo che necessita veramente. La città di Ravenna, il territorio Ravennate, ospita otto monumenti UNESCO e sono veramente importanti. ospita anche Dante. Dante è un'altra cosa che affronteremo oggi. Nel 1921 sono stati 600 anni ed è stata fatta una cosa eclatante. Nel 2021 deve essere altrettanto, quindi deve essere fatta un qualcosa che la nostra amministrazione, perché la tireremo in ballo, la nostra amministrazione dovrà farlo ricordare in un modo molto positivo. Negli ultimi anni Ravenna ha saputo attorno a un circuito di manifestazioni regate alla presenza a Ravenna, della tomba di Dante Alighieri, un crescendo di eventi, di iniziative, manifestazioni che hanno avuto un interesse crescente. È chiaro che l'anno scorso abbiamo avuto probabilmente uno dei momenti più alti, anche in termini di visibilità nazionale e internazionale, con lo spettacolo d'Inferno, che è stato realizzato dal Teatro delle Albe, Ravenna Teatro con Ravenna Festival. Questo è un primo progetto di una trilogia, quindi che avvedrà nel prossimo anno il Purgatorio e poi nel 2021 tutte e tre le cantiche rappresentate. E quindi, ripeto, è un momento di grande visibilità attorno a Dante. Oltre a questo stiamo lavorando nel nostro territorio in progetti di riqualificazione e rigenerazione del territorio per migliorare l'offerta dantesca, il museo, la tomba, tutta la zona, fino ad arrivare anche alla riqualificazione di piazza Caduti e poi, ripeto, tutte le grandi istituzioni, tutta la nostra forza per promuovere questo evento, che dovrà essere una grande occasione per tutta Italia e non solo per Ravenna. E qui discutiamo anche di un importante strumento, che è quello dell'Art Bonus, troppo poco conosciuto sia dai privati cittadini che dal nostro mondo imprenditoriale, perché è un'occasione molto importante per poter contribuire alla crescita del nostro patrimonio culturale, oltre che appuntamenti, attività, iniziative culturali e teatrali che consentono alle aziende e ai privati cittadini, ma in particolare, dicevo, alle imprese e alle aziende, di poter recuperare il 65% dei contributi che mettono sul patrimonio culturale attraverso appunto il credito d'imposta. Un decreto del 29 luglio del 2014 che ha segnato una svolta decisiva per il nostro Paese, che arriva dopo tanto tempo rispetto ad altri Paesi europei, ancora tardano le imprese e le aziende a comprendere l'importanza e l'utilità di questo strumento, utilità anche per loro, perché appunto a fronte di circa 150 mila euro che un'azienda verserebbe a contributo a un'attività culturale, può recuperarne fino a 100 mila nel corso dell'anno in tre rate successive. Senta, invece, tornando a parlare di Dante 2021, da parte della Regione quindi massimo supporto a Ravenna per riuscire a festeggiare in maniera eccellente appunto questo anniversario. Sì, noi affiancheremo il Comune di Ravenna, le istituzioni ravennate, le istituzioni culturali e gli ente locale e già da quest'anno noi abbiamo destinato un progetto speciale, 150 mila euro, per le attività culturali appunto porteranno a questo appuntamento, anno per anno crescerà sempre di più questo contributo fino ad arrivare al 2021, siamo impegnati insieme a Ravenna a fare di questo grande appuntamento anche una grande occasione di attrazione anche di turismo culturale nel nostro territorio. E noi oggi lanciamo questa sfida, che è quella di chiedere comunque agli enti pubblici che sono presenti di renderci a conoscenza di uno, due, tre piccoli interventi che eventualmente noi possiamo promuovere tramite i nostri associati, tramite tutti gli imprenditori per accogliere fondi per vedere di raggiungere l'obiettivo di restaurare o manutentare un bene o un manoscritto o altro. Il che riguarda Dante 2021 è un evento che potrebbe avere una risonanza secondo noi mondiale, pertanto riteniamo che si debba un po' accelerare nell'organizzazione di tutto quello che c'è da fare perché questo evento abbia questa risonanza. Noi dal nostro punto di vista vorremmo almeno sfruttare il 2018 per promuovere questo evento che sarà nel 2021, almeno tramite manifesti, standardi, bandiere, eccetera, per utilizzare quello che sarà tutto il flusso turistico che quest'anno verrà comunque nella nostra città, nelle nostre spiagge, rendere la conoscenza del fatto che nel 2021 a Ravenna ci saranno, mi voglio augurare convegni, incontri, presentazioni e tutto ciò che merita un evento di questa straordinaria portata. Noi siamo stati i primi, siamo stati i primi ad applicare l'hard bonus e sono convinto di quello che dico, Ravenna abbiamo cominciato da quando è stata promulgata la legge, quindi dal 2015, l'abbiamo utilizzato per circa 1 milione e 200 mila euro e quindi la legge è eccezionale, ci consente, consente al pubblico di poter utilizzare anche fondi dei privati e questo consente di poter mantenere poi il patrimonio artistico, il patrimonio storico delle città. Siamo stati i primi anche per le celebrazioni di Dante perché dal 2009 siamo legati all'Accademia della Crusca che nella settimana di settembre, nella settimana a cavallo del 14 settembre, sono anni che organizziamo questo festival di Dante, è un festival che va increscendo, tutti gli anni lo miglioriamo e speriamo di arrivare al 2021 con qualcosa di, lasci dire, di clamoroso che adesso non voglio anticipare ma qualcosa di clamoroso. Dal suo punto di vista anche di uomo di cultura non ravennate, bisogna muoversi in sintonia, in armonia con le altre città che puntano al settimo centenario, quindi Firenze, Verona, le altre città come si stanno muovendo, qual è un po' la sensazione che ha lei? Ma dunque, io penso una cosa, ma non perché siamo a Ravenna, sinceramente, questa è l'occasione di Ravenna, il centenario della morte è l'occasione di Ravenna, lo è stato nel centenario precedente, lo deve essere quest'anno. Ravenna ha la situazione per poterlo fare, non dimentichiamoci, io non sono per niente nazionalista né mi interessano queste cose, ma la tomba di Dante è stato un grande faro di cultura italiana, di irradiazione positiva di cultura italiana, di lingua italiana, di attenzione per l'Italia, di identità italiana, questo dobbiamo recuperarlo, non per distinguersi dagli altri, per sentirsi più bravi, più belli di nostri vicini o di lontani, ma per, come dire, riflettere anche su noi stessi e presentare quello che siamo. Il centro deve essere Ravenna, secondo me è un fatto naturale, io sono di Firenze e non sono esule, quindi non ho ragioni di nessun tipo. Certo, bisognerà poi anche incrociarsi, incontrarsi con Firenze e già lo so che accade fra i sindaci, so che c'è un dialogo aperto e intenso con Firenze e Verona, Roma anche certamente, insomma. Però Ravenna è naturalmente protagonista, investita dal cielo di questo compito.